bella ragazzi sono gussa97watt siamo qui oggi con il secondo episodio delle sfide in live in cui l'obiettivo è uccidere un nemico in battlefield col mulette e ottenere il rispettivo obiettivo io sono il capo il video originale durava 27 minuti ma io ovviamente l'ho tagliato e vi lascio alla parte migliore che è questa qua io vi saluto bella ragazzi colin mccry dirt un foo un founded puppy cucciolo non trovato o trovatello forse non lo so unfaunded non trovato no perchè tempo tempo spazio cos'è 2 1 un altro intanto l'ho distrutto ericina grandissimo c'è una g e tutto il tempo che cerco di mettermi sotto uno loro ci riesco a un costagip di merda adesso metto la metri elettrice potente oil man uomo olio il veicolo di distruzione uh ce n'è due da mettere sotto fermi così fermo oh ce l'abbiamo fatta 30 g sono il capo hai realizzato un'utizione col muletto obiettivo della puntata completato adesso affanculo muletto anzi faccio il muletto kamikaze poi vado troviamo un carro armato adesso ok su d secondo me si soon o qualsiasi cosa corazzata o anche un un tipo a caso proprio il quale il quale pezzo di sito ta 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 te te tau da te penso mi abbia già visto lontanome su chilometri L'ho ammazzato però Kamikaze missione riuscita C'è il mio corpo morto Però non voglio vedere anche lo stato del carro armato Voglio vedere il carro armato prima che finiamo i ticket Tickets Sono tanti Quando siamo a 1 è ticket Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto La tua fazione ha vinto E vabbè tutti colonnello Figa guarda 12 tutti e Tutti Sì vabbè io vi saluto Se il video vi è piaciuto iscrivetevi Vi commentate e mettete mi piace Adesso a trovare il coso del computer Vabbè Io vi saluto